salve a tutti ragazzi benvenuti in questo nuovo video ragazzi ho appena finito di testare la versione beta che è stata rilasciata stanotte di Litki per Mavic Mini e ragazzi abbiamo l'Active Tracker ovviamente questo non è un videotest non vi farò vedere un video completo di Litki ma vi lascio solo qualche immagine di quello che ho registrato prima quando l'ho provata perché ovviamente è un'applicazione troppo acerba troppi bug essendo la prima versione beta quindi essendoci tanti bug inutile fare una video recensione su un'applicazione che deve ancora svilupparsi però ragazzi sono contento perché ho visto il Mavic Mini seguirmi cioè abbiamo l'Active Tracker cioè ragazzi fantastico e poi abbiamo altre funzioni non ho ancora provato WePoint li proverò magari domani o dopo se funzionano meno non lo so sono dentro nel menu quindi si possono selezionare ma non li ho ancora provati mi sono perso via con l'Active Tracker e devo dire che ragazzi funziona però ci sono anche tanti bug da risolvere disconnessioni che si hanno quando si usa l'Active Tracker proprio dell'applicazione che si disconnette mentre se non si usa l'Active Tracker l'applicazione rimane connessa poi ho provato la funzione pano o meglio panoramica che crea la sfera ma anche un video sferico nel senso meglio una foto sferica dove possiamo scorrere col dito come se fossimo all'interno di una bolla a 360 gradi un po' quello che fa una foto di una camera a 360 quindi figata pazzesca anche quella in più abbiamo anche se vogliamo la foto sferica quindi ragazzi però per farvi vedere vi lascio un po' di immagini appunto dell'Active Tracker che mi ha fatto il Mavic Mini e anche della foto sferica che ho fatto e ragazzi sono contento perché è stato incredibile farsi seguire dal Mavic Mini ovviamente non funziona perfettamente ancora perde il soggetto abbastanza anche facilmente nel senso che un senso reale perché magari lo perde e poi soprattutto queste disconnessioni mentre facciamo l'Active Tracker però è ripeto l'inizio di un qualcosa che non c'era e che sicuramente adesso con i vari feedback che lasciamo noi beta tester alitichi piano piano risolverà un po' tutti quelli che sono i problemi fino a quando poi arriverà la versione per il pubblico che sarà sicuramente perfetta ma già la prossima versione beta secondo me avrà tanti miglioramenti che ovviamente questa essendo proprio la prima non ha ma sono proprio contento quindi ragazzi adesso vi lascio le immagini che secondo me tanti di voi stavano aspettando e tanti soprattutto non vedevano l'ora di potervi sapere che anche il Mavic Mini quindi ragazzi prima di lasciarvi alla visione delle immagini lasciatemi un grosso pollice su iscrivetevi al canale Tracker Mofferte se lo avete ancora fatto e se vi va seguitemi su Instagram dove sicuramente porterò delle novità o quando scopro cose nuove riguardanti l'itichi lì le vedrete magari qua invece arriverà tra un po' quando tutto sarà un po' più diciamo solido a livello di applicazione mentre su Instagram sicuramente vi porterò dei video qualcosa informazioni e soprattutto ragazzi comunque iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi appunto le prossime video di l'itichi che io chiamo l'itichi anche se non è il nome giusto non si pronuncia così lo so ma a me piace pronunciarlo l'itichi quindi ragazzi se questo video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un grosso pollice su e ci vediamo ovviamente nei prossimi video buona visione dell'active track e foto panoramiche di l'itichi proviamo la funzione pano andiamo a una bella altezzina così ok ok qua gli diciamo ok registrazione interrotta quindi vedete il Mavic Mini là in alto che inizia a scattare un sacco di foto quindi lui scatta tantissime foto arriva a 28 foto è impostato così come vi ho detto prima adesso è in modalità automatica nel senso l'itichi l'ho lasciato in modalità default come impostazione giusto per farvi capire il risultato di questa funzione ok ne sta scattando tantissime vediamo ok fantastico 20 21 22 23 quindi dovrebbe aver finito 23 foto ok si è messo in postazione scaricamento dell'anteprima quindi va a scaricare l'anteprima siamo veloce il passaggio è tutto veloce ci mette di più diciamo a scattare le foto perché sono tante ma poi adesso a trasferire il tutto ci sta mettendo davvero poco vedete che va su velocissima la percentuale ok ci siamo e ragazzi siete pronti iniziamo l'active track a questo punto il Mavic Mini ci ha tracciato e ci dovrebbe continuare a tracciare basterà andare a cliccare sul simbolo in alto a sinistra qua con il lumino con la freccia quindi ho compreso il rischio procedi a questo punto il Mavic Mini dovrebbe tracciarci adesso provo a andare indietro piano piano vedete che sta arrivando guardate ragazzi ricordatevi che questa è una versione beta cioè poi la prima versione beta provo a andargli incontro vediamo se indietreggia si guardate che indietreggia guardate si io non lo sto toccando eh guardate indietreggia ancora si ha abbassato la fotocamera e continua indietreggia guardate adesso vediamo se mi ha perso sicuro ha abbassato tutta la fotocamera però vedete che fa fatica a tenermi inquadrato eh adesso sono diventato arancio adesso sono ritornato verde vediamo se mi sposto di qui ok mi sta tenendo inquadrato adesso vedete che io non lo sto toccando provo ad andare indietro ancora se non cado ok provo a aumentare un po' la velocità di corsa ok adesso mi sta tenendo inquadrato bene eh anzi mi lo trovo sulla testa quasi mi si è avvicinato tantissimo a verlo dietro quindi mi riallontano adesso mi ha un po' perso vedete adesso gli ritorno alzo un po' la telecamera se si è ok però lui la riabbassa quindi provo a alzare il drone ok vediamo se mi sta tenendo si sembra di sì quindi proviamo no è rimasto lì mi ha perso adesso ho in